Su impegno civico, la comunità può contare su una maggiore consapevolezza nell'affrontare la sclerosi laterale amiotrofica. È diventato un punto di riferimento per le persone affette da malattie neuromuscolari. La forza e lo spirito con cui, fin da ragazzo, ha reagito alle difficoltà della disabilità sono un esempio di vita. Negli anni si è speso per difendere il diritto al lavoro delle persone più deboli ed emarginate, per promuovere lo sport tra i disabili, per ampliare la rete del volontariato di cui è sempre stato protagonista attivo. È stato tra gli ideatori e fondatori del centro clinico NEMO per dare una risposta multidisciplinare alle necessità espresse da pazienti affetti da queste particolari patologie. Padre di tre splendidi bambini e imprenditore in ambito sociale, vive nel segno della solidarietà e dell'impegno per il prossimo. Grazie. 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 Grazie.